Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo Uri e sono qui per parlarvi di scene di sesso negli young adult questo sarà un video molto porno ma cercherò insomma di usare dei termini un po' così allora parliamo di sessualità negli young adult, parliamo dei messaggi che vengono lanciati e se queste scene ci dovrebbero essere o meno allora partiamo dal presupposto che io non è che sono un puritano e dico o mio dio una scena di sesso no assolutamente cioè non ci deve essere assolutamente io penso che si possa descrivere tranquillamente una scena erotica o di sesso in questo caso porno perché secondo me l'erotismo è un'altra cosa ma bisogna saperla descrivere e secondo me entrare morbosamente nella scena nei particolari, né lei che ansima, né che urla, lui che la mette in tutte le posizioni eccetera eccetera è una cosa che sinceramente ce la possiamo anche risparmiare perché voglio dire se tu mi descrivi la scena in tutte le minuzie tanto vale che io vado a vedermi un porno, non vado a spendere 17,90 euro per un libro quindi io penso che questa morbosità secondo me deriva dal fatto che in qualche modo le nostre autrici o hanno delle problematiche con la sessualità quindi per loro il sesso è sempre stato qualcosa di tabù qualcosa di nascosto di cui non si deve parlare oppure non hanno una vita sessuale soddisfacente perché voglio dire non si spiega a parte il fatto che non sanno neanche scrivere le scene perché se volete delle scene ben descritte vi consiglio la martedì di Chatterley oppure i Stuart Domali andiamo nel stato masochismo e tutt'altro però loro riescono comunque a descrivere delle scene senza entrare nel morboso, nel volgare perché secondo me voglio dire se tu mi scrivi una scena erotica non c'è bisogno di dire che il suo membro era grosso così e lei vedeva tutto il firmamento che era in ecstasy eccetera eccetera quindi diciamo che la problematica non è il tanto se ci sono ma come vengono scritte che secondo me è quello il grande problema ma secondo me c'è un altro grande problema a parte il fatto che nessuno si è scandalizzato del fatto che in questi libri ci siano delle scene porno perché comunque mi ricordo ai tempi Melissa P che fece tanto scalpore se avete la possibilità comunque rileggetemi Melissa P o comunque leggetela perché è un libro veramente molto interessante fece scandalo scalpore che voglio dire non ha scritto niente di così eclatante voglio dire invece oggi che ci vengono presentati dei libri in questa maniera dove comunque viene presentata una sessualità molto repressa dal punto di vista femminile e vengono lanciati dei messaggi secondo me molto sbagliati nessuno abbia detto beh cioè nessuna madre si sia mai sognata di prendere in mano il libro di after di leggerlo di andare dalla d'urso magari perché visto che quella ci sguazza in queste cose a dire no vabbè ma mia figlia che legge ste robe no di qua di là eccetera eccetera cioè mi sembra un po' strano forse perché magari la madre legge le 50 sfumature e quindi voglio dire quindi sinceramente questa cosa non l'ho capita perché voglio dire il fenomeno mediatico di after è stato veramente molto grande la Melissa P ha avuto una cosa mediatica ma perché qualcuno si è accorto di questo fenomeno delle vendite e quant'altro diciamo che la Melissa ai tempi non aveva Facebook, Twitter e quant'altro quindi il fenomeno diciamo che è scoppiato in un'altra maniera ma voglio dire oggi no che con tutti questi social network con tutte queste cose è possibile che nessun genitore abbia preso in mano sto libro e abbia detto beh no però quando vediamo in televisione due tizi che si baciano apriti cielo i nostri figli guardano queste cose però se leggono delle cose volgari e diseducative nei libri allora li va tutto bene allora secondo me questi libri danno dei messaggi veramente sbagliati e presentano una sessualità femminile distorta e alquanto retrograda allora se da una parte abbiamo la scena porno che ti descrive miniziosamente tutto quello che deve essere descritto neanche fossimo degli sceneggiatori di porno ora non so neanche se esistono i sceneggiatori di film porno sinceramente dall'altra parte presentiamo dei modelli dei modelli retro che non ci dovrebbero assolutamente essere e in particolare modo la sessualità femminile è in qualche modo repressa è in qualche modo dipendente dalla sessualità maschile e alla fine sfocia sempre nella maternità quindi la sessualità femminile non ci dovrebbe cioè ci dovrebbe essere ma in in piccoli pezzi insomma e alla fine poi è una sessualità legata sempre alla maternità e sinceramente questa cosa nel 2018 la trovo veramente obsoleta diciamo così perché voglio dire è vero che i due tizi poi alla fine come sappiamo sempre si sposano però voglio dire possiamo anche contestualizzare il tutto in modo diverso allora partiamo dal presupposto che la sessualità femminile come ho detto prima in questi libri viene insomma viene considerata non viene considerata pieno perché abbiamo innanzitutto delle donne vergini quindi delle donne che sono totalmente inesperte dal punto di vista sessuale delle donne che non sono consapevoli della propria sessualità delle donne che non hanno mai visto un pisello neanche quello congelato della Findus mentre Melissa P era una sedicenne che aveva una libertà sessuale e quindi forse è questo il grande scandalo che travolse la cara Melissa perché si parlava di libertà sessuale cosa che in questi libri non c'è assolutamente perché non abbiamo delle figure femminili libere dal punto di vista sessuale perché sono tutte virgo intacte immacolate hanno frequentato le orsoline sono uscite e buonanotte quindi presentare secondo me questo questo modello e questa idea è in qualche modo un po' distorta perché perché alla virginità della nostra protagonista viene accostato anche il fatto di essere una brava ragazza e sinceramente giudicare una persona in questo caso una donna dal numero di esperienze sessuali o dal numero di uomini che si è portata a letto sinceramente è una cosa alquanto squallida perché io penso che una persona dovrebbe essere giudicata con altri parametri e non il parametro del allora fino a dieci è così dai dieci a venti sei cos'ha dai venti a trenta sei una gran cioè assolutamente no quindi questa cosa secondo me è alquanto sbagliata cioè si dovrebbe dire che comunque sei una brava ragazza hai voti a scuola molto alti vai bene eccetera eccetera però puoi fare quello che vuoi la tua vita la gestisci come vuoi tu puoi fare sesso con quante persone vuoi e chi se ne frega cioè è quello che a me dà fastidio cioè il fatto di accostare queste due cose quindi queste tizie appena uscite dalle orsoline che non conoscono assolutamente niente hanno una sessualità repressa vabbè i genitori non ne parliamo ma ne parleremo in un altro contesto quindi non hanno una propria sessualità non per non parlare dell'autoerotismo ovviamente cosa che in Melissa P si parlava ovviamente non in termini molto espliciti ma comunque si faceva intendere che la Melissa andasse alla ricerca del proprio piacere e questa cosa è assolutamente un tabù quindi da questo deduco che la sessualità femminile rimane comunque ancora un tabù che parlare di una donna emancipata sessualmente rimane ancora un tabù o fa paura proprio per dei concetti e dei pregiudizi per me molto sbagliati ma c'è anche un aggravante il fatto che queste tizie fanno sesso solamente con il marito o solamente con il fidanzato quindi a costare queste due cose no c'è il sesso senza amore di qua e di là che secondo me anche lì è ampiamente sbagliato perché una persona può tranquillamente fare fare sesso cioè solo per il puro piacere cioè secondo me non necessario almeno io la penso così che con una persona cioè devi avere per forza un coinvolgimento anche qui poi è un costrutto temicamente femminile no il fatto che la donna cioè femminile retrogrado insomma il fatto che la donna comunque senza amore non riesce a fare sesso di qua di là eccetera eccetera si può essere però voglio dire non è che siamo tutti uguali insomma cioè magari c'è c'è la persona che fa sesso fino a se stesso e buonanotte cioè questa cosa insomma si poteva tranquillamente vedere nel il tempo delle mele no che secondo me era un film molto più più avanti rispetto a questi libri comunque la sessualità che sfocia comunque nell'amore che deve essere sempre un coinvolgimento amoroso il tizio ovviamente le fabbe delle stelle le fa vedere tutto la gira la volta la ribalta come un calzino di qua e di là e alla fine ovviamente si sfocia sempre nella maternità quindi non solo abbiamo una sessualità chiusa repressa una sessualità che non esiste una sessualità dipendente dall'uomo dove lei comunque è anche sottomessa non solo economicamente ma anche dal punto di vista sessuale perché non ha esperienza tant'è che poi ci stanno frasi nessuno ti potrà dare piacere come te lo do io si amore il mare è pieno di piselli tesoro voglio di non tirartela insomma vabbè quindi una sessualità repressa che sfocia nella maternità ma per quale motivo poi alla fine sti due si innamorano eccetera eccetera si vabbè ci può anche stare ma perché necessariamente bisogna sottolineare il fatto che queste donne devono fare per forza dei figli è come dire che il rapporto non è maturo o comunque la vita di una donna non è completa finché non hai dei figli cioè queste donne potevano tranquillamente essere delle donne in carriera potevano tranquillamente essere delle donne felici del loro successo poi magari successivamente avere una famiglia e far coincidere le due cose ma molto spesso questo è una cosa che non viene assolutamente sottolineata cioè viene sottolineato il fatto che il il tizio vabbè dopo tanti travagli capiscono che non possono stare non possono separarsi eccetera 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 si sposano fanno dei figli e buonanotte cioè questa cosa sinceramente è un qualcosa di molto urticante voglio dire nel 2018 dove noi parliamo sempre di parità dei sessi e qui e lì e là e tutto quello che volete voi tutte cose belle però nel lato pratico non è così perché alla fine donna uguale maternità per quale motivo cioè io questa cosa sinceramente non riesco a capire che poi una donna possa scegliere liberamente in tutta libertà perché voglio dire siamo in un paese libero di essere moglie e madre ma per l'amor del cielo però non è che deve essere una prerogativa cioè non è che se tu non hai dei figli tu non sei non ti senti completa quindi avevamo una sessualità libera in Melissa P una sessualità fatta di esperienze poi c'è anche una parte di internet dove si diceva in qualche modo che lei si era messa in contatto con uno psicopatico eccetera eccetera tra l'altra parte abbiamo una sessualità repressa una sessualità dipendente dall'uomo una sessualità che c'è ma non troppo che deve essere qualcosa che non si deve dire qualcosa legato comunque alla verginità perché comunque se non se è una una poco di buono e quant'altro quindi in quel caso abbiamo un grosso scandalo oh mio dio oh mio dio ma che è successo non è possibile che una donna faccia determinate cose da questa parte il costrutto della brava ragazza che si innamora e quindi anche vabbè se non si sposa li lasciamo perdere perché la carne comunque è debole che fa le cose in maniera convenzionale che poi alla fine ha anche dei figli e tutto questo sinceramente nel 2018 è molto antico come pensiero è un qualcosa che secondo me dovrebbe essere ampiamente superato ma non solo abbiamo una sessualità comunque molto chiusa per quanto riguarda appunto quella femminile di quella maschile non me le parlo neanche perché ovviamente qui sono tutti campioni del sesso c'è manco uno che facesse cilecca e buonanotte ma danno anche secondo me dei messaggi molto molto sbagliati perché in questi romanzi non si parla mai di contraccettivi o quando si parla di contraccettione viene sempre visto come un impedimento al rapporto ora è vero che comunque l'educazione sessuale dovrebbe essere fatta da altre persone per amor del cielo però voglio dire anche i libri in qualche modo possono insegnare no? possono darti un modo e maniera di riflettere e secondo me presentare dei modelli dove la contraccettione viene vista in qualche modo come qualcosa di non dico sbagliato ma di impedimento al rapporto secondo me è una cosa enormemente grave perché io penso che all'interno no? di insomma di una vita sessuale ma all'interno di qualsiasi ambito bisognerebbe usare il cervello e bisognerebbe essere responsabili anche perché voglio dire i protagonisti di questi young adult non sono dei quindicenni che magari dice vabbè il quindicenni è preso dall'ormone ma anche lì però sono delle persone che hanno 23-24 anni cioè sono delle persone che dovrebbero avere un minimo di responsabilità e questa cosa veramente l'ho trovata molto fastidiosa cioè il fatto che non si parli mai di contraccettivi del fatto che non si parli neanche mai di malattie o di gravidanza no? perché vabbè alla fine la gravidanza è una cosa bella perché tu alla fine ti sposi e quant'altro però non si pone mai l'accento su questa cosa cioè non mi ne mai detto vabbè voi lo potete anche fare potete anche essere innamorati non innamorati o chi se ne frea di qua e di là però dovete fare le cose con responsabilità no? secondo me dare dei modelli responsabili secondo me potrebbe aiutare il lettore a diventare responsabile poi è ovvio che chi legge questi romanzi non è un deficiente che imita come le scimmie voglio dire che magari c'è qualcuna che legge però ha un po' di sale in zucca però secondo me dare un maggior dare maggiore evidenza a queste cose potrebbe essere qualcosa di molto importante dovrebbe dare un valore in più perché non è tanto il fatto della gravidanza ma il fatto che comunque possono tranquillamente essere delle malattie ma questi tizi sono tutti sani per amor del cielo cioè non dubitiamo neanche di questo fatto ma stiamo scherzando assolutamente no? un'altra cosa secondo me molto molto sbagliata è come viene descritto il tutto come ho detto prima viene descritto malissimo no? perché ovviamente si parla di cose grosse così lei che urla come se non ci fosse un domani che vede tutti i santi del paradiso inferno purgatorio poi c'è Dante che la salute dice ah ti stai divertendo brava e secondo me possono in qualche modo creare delle aspettative alte nei confronti di un rapporto che magari la prima volta può essere qualcosa che dura due secondi e buonanotte cioè voglio dire un rapporto tra due persone che siano etero gay tutto quello che volete voi insomma cioè non è la regola che tutte le volte che lo fate cioè deve essere perfetto in maniera perfetta perché ovviamente queste scene non è che sono solamente nel primo libro no? io sto parlando di bravi ma anche successivamente cioè voglio dire può essere che sto tizio sti tizi lo fanno 60 volte per dire in 5 volumi e lui non ha mai un deficit erettile cioè lui non è mai stanco e dice no vabbè amore mi giro dall'altra parte e dormo cioè è assolutamente qualcosa di impensabile voglio dire quindi non creiamo alte aspettative nei confronti di un qualcosa che magari si può essere qualche volta da da fuochi d'artificio ma molto spesso cioè potrebbe essere anche molto deludente soprattutto la prima volta voglio sapere come è stata la prima volta di nessuno tenetevela per voi assolutamente però voi capite che insomma tu crei delle alte aspettative come quando vedi il bel libro con la bella copertina che tutti ne parlano bene poi apri il libro e ti trovi che è una delusione insomma è un po' di la stessa cosa quindi io penso che da un lato queste scene dovrebbero essere descritte meglio e non entrare nel morboso perché anche lì descrive determinate cose voglio dire ci sono i siti gratis uno va lì cioè non c'è che c'è bisogno di tanto e è il fatto anche che si dovrebbe porre l'accento su determinate cose come la contraccezione come il fatto che comunque potrebbero essere delle malattie e non creare alte aspettative cioè non descrivere delle cose veramente assurde cioè perché voglio dire un conto è la fantasia che uno va a ricercare magari in un sito porno dove che ne so c'è la baby che poi c'è una sezione di babysitter cioè vabbè lasciamo per quindi è una cosa di fantasia tu sai che quella non è la realtà però se tu lo vai a scrivere in un libro per per adolescenti tu stai creando delle aspettative alte che molto spesso vengono deluse poi ripeto ognuno poi ha la sua testa ragiona eccetera eccetera quindi sa benissimo determinate cose per amore del cielo però magari insomma c'è la ragazzina che ancora non l'ha fatto e si aspetta chissà che cosa si aspetta tra l'altro di trovare chissà che cosa delle cose mastodontiche magari il tipo normodotato e magari viene snobbato anche per quello perché parliamoci chiaro voglio dire c'è anche una discriminante nei confronti di tutti quelli che voglio dire non hanno delle proboscidi nelle parti basse ma lasciamo perdere e che in qualche modo insomma sogni un qualcosa magari vorresti che la tua prima volta fosse così di oh mio dio da farli qua di là e poi te trovi insomma due minuti è già finito e buonanotte quindi dopo tutto questo insomma divagare di venti minuti fatemi sapere voi cosa ne pensate fatemi sapere voi insomma qual è la peggior scena porno che voi avete trovato nei libri fatemi sapere voi tante cose belle comunque vi consiglio di recuperare Melissa P che è un romanzo secondo me che merita tantissimo di essere riletto e insomma fate anche un confronto dovete trovarsi ancora in gira insomma io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao